Dalla collaborazione dell'Associazione Listrice con l'Oasi, il WWF Abruzzo, l'Istituto Abruzzese per le Aree Protette, il Centro di Educazione Ambientale dell'Oasi e l'Educatrice Ambientale, Irene Speziale, nasce il premio letterario I Racconti dell'Oasi. Storie inedite scritte da bambini e ragazzi e dedicate agli animali della riserva naturale regionale dei Calanchi di Atri, saranno al centro di questa prima edizione del premio Gli Animali dell'Oasi, che prende spunto dalle schede sulla biodiversità faunistica dell'Area Protetta regionale, messi a disposizione dagli organizzatori del concorso. Irene Speziale, educatrice ambientale, da dove nasce l'idea di questi racconti dell'Oasi? Allora, in realtà l'idea nasce da un laboratorio che abbiamo tenuto in riserva in questa primavera, durante il quale abbiamo preso spunto proprio dalla biodiversità faunistica dell'Oasi per realizzare con i bambini delle pagine pop-up e durante queste realizzazioni i bambini volevano scrivere storie su questi personaggi. Allora poi, ripensando alla cosa, abbiamo pensato appunto di proporre questa iniziativa del premio letterario sul territorio nazionale e non più sotto forma di pop-up ma come scrittura. Quindi abbiamo chiesto ai bambini e ai ragazzi di realizzare dei racconti. A chi ha riservato questo premio letterario? Chi può concorrere? Possono concorrere tutti i bambini e i ragazzi dai 7 ai 17 anni, poi sono suddivisi in categorie, si possono iscrivere tramite il modulo che trovano insieme al bando online e fino al 20 ottobre possiamo ricevere le opere e poi le valuteremo e abbiamo intenzione di realizzare un'antologia con i racconti, non dico migliori, ma insomma che magari raccolgano tutto il panorama faunistico, quindi cercheremo di prendere un po' tutti gli animali presenti. La partecipazione al concorso è gratuita e il bando del premio letterario è sul sito dell'Oasi www.riservacalanchidiatri.it Adriano De Ascentis, direttore della riserva naturale dei Calanchi di Atri, come la riserva è coinvolta nell'organizzazione di questo premio letterario? L'associazione Istice, che è ideatrice del premio letterario, opera all'interno della riserva naturale, è nata all'interno della riserva naturale che oltre ad essere una delle 25 riserve naturali d'Abruzzo è anche un centro di educazione ambientale della regione Abruzzo e quindi abbiamo sponsorizzato da subito e sposato questa bellissima idea che porta al centro dell'ambiente, della ricerca, dell'educazione ambientale il bambino. Il bambino non più come educato ma come educatore ci insegnerà attraverso i suoi racconti a vedere l'ambiente sotto un'altra visione che è quella dei più piccoli. Qual è lo stato di salute delle riserve naturali oggi in Italia, in particolare della riserva dei Calanchi di Atri? Il nostro diciamo che è buono perché siamo una riserva in crescita e ci sono sempre più turistici, c'è sempre più ricerca, in generale abbiamo sempre scarsa attenzione dal mondo politico purtroppo, l'ambiente, la cultura, siamo sempre più bistrattati e quindi ci servirebbe soprattutto in una regione come quella abruzzese dove si parla sempre di regione verde d'Europa più attenzione verso le riserve naturali e i valori dell'ambiente.